Io, Michael Richard Pompeo, giuro di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici stranieri e nazionali. L'italo-americano Mike Pompeo è il nuovo capo della CIA. La sua nomina è confermata dal Senato con 67 voti a favore e 30 contrari, quasi tutti democratici. Democratici. Laureato in legge, si oppone da sempre all'Obamacare, è contrario alla chiusura del campo di prigionia di Guantanamo e convinto sostenitore del programma di sorveglianza informatica globale dello spionaggio statunitense rivelato da Edward Snowden. Donald Trump blinda così il settore della sicurezza della sua amministrazione dopo la conferma del capo del Pentagono James Mattis e del consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Intanto fanno discutere i primi tre ordini esecutivi del neo-inquilino della Casa Bianca. No ai finanziamenti federali e alle ONG pro aborto, fuori gli Stati Uniti dal trattato commerciale transpacifico e blocco delle assunzioni federali, tranne che per i militari. La spinta ultra-protezionistica prosegue nel primo incontro con i leader del business, ai quali Trump promette di cancellare almeno il 75% dei regolamenti in vigore e di ridurre le tasse per le imprese dall'attuale 35% al 15-25%. Tutto quello che dovrete fare è stare qui, non andare via, non licenziare la vostra gente negli Stati Uniti, chiede il neo-presidente a stelle e strisce.